Siamo alla cozzeria Pluma. Buonasera. Buonasera. Bentornati. Senti, quest'estate a Pistoia come sta andando? Quest'estate sta andando molto bene, a differenza degli anni passati, devo dire che il Pluma ha goduto di quest'estate, ha goduto di questo blues, è andato molto 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 bene. Senti, qualche anche novità, perché quest'anno c'hai anche il sushi. Sì, quest'anno abbiamo dedicato una serata, la settimana, il giovedì, con il sushi, oltre al nostro menù classico. Ecco, cozze, poi abbiamo messo qualche altro piatto particolare da segnalare ai nostri lettori. Sicuramente, oltre alle cozze, compreso nel discorso cozzeria alla francese, abbiamo tutte le crudite di mare, scampi, gamberoni, tartare, sashimi, le ostiche, sempre presenti nel nostro menù. Poi fra le novità di quest'anno c'hai anche i tavolini all'aperto. Ecco, sì, una bella novità, dopo tanti anni abbiamo avuto l'autorizzazione per avere un piccolo spazio sul retro del palazzo, qualche tavolino, niente di particolare, ma sicuramente molto piacevole per queste giornate calde. Ecco, sono sul retro però, insomma, in una zona storica di Pistoia, tranquilla, silenziosa, però la Biblioteca Forteguerriana ha sempre il suo fascino. Sì, sicuramente, anche in un contesto pulito, piccolino, tranquillo, a due minuti, proprio a due passi dalla piazza del Duomo e dalla movida della sala, però per una cena in tranquillità molto piacevole. Poi mi dicevi sicuramente fino al 5 di agosto e tutta la cozzeria. Tutta la cozzeria, sì, poi il 5 di agosto chiuderemo per le nostre fere annuali, per 15 giorni riapriremo il 20 di agosto. E quindi poi ci risentiamo dopo un ferragosto per il nuovo menù? Eh sì, sì, ripartiremo alla grande. Bene, così ci racconterai le novità di questo autunno. Intanto gustiamoci quest'estate che ancora sta esplodendo in questi giorni in realtà. Sì, 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 un po' tarda, tardiva. Senti, già che sono qui, stasera che mi proponi la cena? Stasera potremmo fare sicuramente un bel sashimi, un trissi di sashimi, tonno, salmone, pesce e spada e poi magari una bella pepata di cozze o un accuro di tè. E come vino? Come vino io andrei su un bel bartenao di Hofstetter, un pino bianco in purezza, molto buono. Allora, va bene tutto, sto leggero, non prendo il dolce se mi porti l'ordine in cucina. Ciao e grazie. Grazie a voi, buona serata.